Io sono Giorgio, sono un pappagallo, un amazzone a fronte gialla, ho 20 anni, credo di essere non un pappagallo ma un essere umano e sono praticamente il padrone di casa. Io sono mia, ho 9 mesi, sono molto allegra, sono molto giocosa, però sono anche molto protagonista. E siamo gli amici di Alda Deusani. Giorgio ha un carattere, come tutti i pappagalli, molto deciso, diciamo così, direi quasi prepotente. Lui sa di essere il padrone di casa, è uno che sceglie le persone, questa è una casa molto frequentata dagli amici, se c'è qualcuno che non gli piace, lui gli va addosso e quando lui non se ne accorge, gli fa i bisogni addosso. Questa casa tutti comandano tranne me, vero? Lo so. Ho imparato che a capotavola con lui mi metto io con lui, facciamo due posti, perché lui c'ha il posto, poi lo vedrai. Spaghetti, pollo, insalatina, una pazzina di caffè, a malattina riesco a mandar giù. Il carattere di Mia è un carattere giocoso, molto allegro, lei è veramente giocherellona. Quando esce di casa la prima cosa entra in tutti i negozi che lei ama, dove ci sono le persone che ama. Anche lei ha un carattere, come dire, come tutti in questa casa, molto rispettosa di sé, molto indipendente, ecco, indipendente. Andiamo. Forza. Non sono una di quelle che dicono che gli animali sono migliori degli uomini, per carità, però, dai, tutti e tre ci facciamo una foto tutti e tre, che ci baciamo. In cosa ci assomigliamo noi tre? Beh, ci assomigliamo soprattutto nella richiesta di affetto. Ma a lui questa è la cosa, la coccola, che più gli piace. Quando gli faccio così sulla testa e sul collo. Poi ci possiamo assomigliare anche nella capacità di dare amore, perché come loro, anch'io, quando amo, do molto, do tutta me stessa, ai miei amici, alla famiglia, insomma, a tutti quelli che amo. Allora, un saluto e un messaggio dalla Casa del Calore Umano, da Mia e Giorgio. Siate buoni con gli animali, perché se siete buoni con gli animali, siete buoni con voi stessi. Pugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Grazie a tutti.